Ok, è iniziato ora l'ultimo minuto di orologio, e poi Barcelona sarà campione! Attenti, attenti, attenti in mezzo, attenti in mezzo! Spezzella! Perdi Messi! Perdi Pedro, scusate! Pedro è solo! Può non racchiudere la finale di Champions League tra Barserall! Pedro! Pedro! Pedro che c'è il Pedro! Pedrito! Pedrito! 3-1 Barsa! Il Barsa è il campione d'Europa! Il Barsa è il campione d'Europa! Con il gol di Pedrito, alla quarta stagione di FIFA 12, il Barsa è il campione d'Europa! Che gran giocata! Grande Pedro che fa la doppietta! E dopo la festa gli faremo rivedere i gol! È quasi finita ragazzi, è quasi finita, attenzione! Via parte, parte via ancora! Il Barcellona è l'abitrone sotto la doccia! Il Barcellona è il campione d'Europa! Per la prima volta nella quarta stagione! Il Barsa è il campione d'Europa! E la Madrid è battuta in finale in un derby di Spagna! Il classico! Perciò il Barcellona è il campione d'Europa! Il Barcellona è il campione d'Europa ragazzi! Sì, potete festeggiare! Fate di tutto! Perché il Barcellona in questo caso è il campione d'Europa! E ora aspettiamo solo l'alzata della Coppa! Solo l'alzata della Coppa! Qui ottimi, ottimi tutti! Molto bravi tutti! Una formazione bellissima con il Barcellona che va a vincere! Anche la Coppa! La Champions League! Coppa dei campioni in FIFA 12! E ora ragazzi! Aspetta che c'è assoluta la discesa! Si tufferanno per te i giocatori! Ecco qui! Che bellezza! Che bellezza sto Barcellona! Che purtroppo in campionato ha perso di 6 punti dal Real Madrid! Ma ha vinto la Coppa del Rey! E oggi ha vinto la Champions League! Non me lo sai nella sua storia! Ed eccola! La UEFA Champions League! Per il Barcellona! Punti! Ed è l'ultimo anno di Puyol! È l'ultimo anno di Puyol la quarta stagione ragazzi! E ora qui le pagelle! Le pagelle! Miller e il capo Pedrito! Vediamo le reti! Due di Pedrito! Una di Xavi che è uscito! E poi gli altri abbastanza bene! 3 a 1! Inizio del Real Madrid! L'unico un po' è soldato! Poi Sveinsteiger! Sneijder! Però il Barca è il campione e ora! Vi rubo due minuti per farvi vedere tutti i gol della giornata! Questo è il primo! No scusate eh! Questo è il gol di Xavi! Aspetta che c'è un problema! Qui non si vede Xavi però! Ecco! Qui non si vede Xavi! Questo qui è un bug! Non si vede! Comunque questo qui è Xavi che avanza! Tira e la pala va nell'angolino prendendo il palo! Non so perché non si vede! Non lo so! Comunque! Comunque è un gran gol ha fatto! Poi! Il 2 a 0 di Pedrito! Poi è un gol facile e facile! Grande Messi che avanza! La mette dietro! E 2 a 0! Questo è il gol di Soledad che però riappre la partita! Che avanza Real! Esce il bordiere! E a porta vuota! Soledad! E poi come tutti avete visto! Al novantesimo il gol che regala la Champions League al Barcellona! E per oggi è tutto! Barcellona 3! Real Madrid 1! Barcellona campione d'Europa! Alla quarta stagione di FIFA 12! Grazie! Da Robert Matri 1999 del PIP!